Grazie. Questa manifestazione serve a ricordare in maniera diversa rispetto a quella ufficiale il centenario della marcia su Roma, quindi non è il centenario dell'avvento del fascismo ma per noi è il centenario della resistenza e delle lotte antifasciste e questo ci vogliamo rivendicare con questa giornata. Non è quello che mi dicono su TV ma proprio quello che lui ha detto. Minaccia, 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 poi non sanno niente. Magari potevano bambandare altri 40 anni. Quello che dobbiamo fare come antifascisti è tenere alta la vigilanza, tanto sui nostri territori per respingere i fascisti e tutte le infiltrazioni reazionarie quanto a livello politico generale per non lasciargli fare quello che vogliono. Siamo venuti a sostenere gli antifascisti. Noi siamo venuti a sostenere la manifestazione degli antifascisti e noi siamo venuti a dire che in Ucraina c'è il nazismo, c'è il nazismo a livello statale.